Stornuto IPFS, Interplanetary File System Si tratta di un protocollo peer-to-peer Che permette di distribuire il web Ovvero, se io ho questo triangolino Questo triangolino mi piace un sacco Nel tempo io non voglio che venga perduto Voglio che tra cento anni, tra mille anni Questo triangolino sia possibile ricrearlo Perché mi piace e perché ci credo in lui Allora cosa faccio? Ora ce l'ho soltanto io Nessuno ha le informazioni necessarie per ricostruirlo uguale Con lo stesso magnetismo Con la stessa disposizione La stessa forma, lunghezza e pallina Allora io prendo Lo spezzetto E distribuisco queste informazioni A un altro computer, un'altra persona Che le salva Come pezzettini E nel caso io lo perda Quindi dico No, l'ho perduto Cosa faccio? Vado a interrogare questo computer E gli dico Ehi, io voglio ricostruirlo Come faccio? Lui dice Ehi, io ce l'ho Ce l'ho per intero E voglio aiutarti a ricostruirlo Mettiamo che io voglio vedere un video Che si trova in Norvegia Un mese fa potevo vederlo Sono su YouTube in questo momento Un mese fa volevo vederlo E potevo vederlo Adesso Per qualche motivo Nel mio stato è stato bloccato E io rimango deluso Perché non posso vederlo Com'è possibile? Perché YouTube O meglio Google Ha deciso che Non è più disponibile nel mio paese Per motivi di copyright Piuttosto che perché Lo Stato ha chiesto a Google Di non farlo più vedere in Italia Insomma per vari motivi Può essere che io non lo veda più Ma se questo video Fosse stato condiviso Anziché attraverso upload su YouTube Fosse stato condiviso attraverso Ad O meglio Ed In inglese Cioè Ad Aggiungi Tramite l'IPFS Ad oggi io potrei ancora vederlo Finché almeno una persona Lo Lo abbia visto E sia connessa alla rete Quindi Ho l'originale Che l'ha condiviso Com'è possibile Fare tutto ciò? Praticamente Il file viene Spezzettato in tante parti Allora L'originale È ancora nelle mani Di chi l'ha creato Chi l'ha creato Lo spezzetta in tante parti E lo distribuisce Sulla rete Ora Se almeno una persona È interessata A vedere questo video E dice Io lo voglio vederlo Cosa fa? Interroga Chi l'ha creato In questo caso Perché è l'unico ad averlo E gli dice Ehi Ti servono questi pezzi Per poter vedere il video Allora Gli manda i pezzi E questo qui Li unisce E lo guarda Questa persona Nel suo computer Contiene ancora i pezzi Che gli sono stati mandati Quindi Se una terza persona Decide di vederlo Cosa succede? Che Chiede A chi è connesso A chi è connesso nella rete Quindi in questo caso Il creatore E anche quello Che l'ha già visto Ehi Io voglio vedere quel video Mi mandate i pezzi Per vederlo Allora Questa persona Cioè Può vederlo Attraverso L'invio Simultaneo O meglio Un pacchetto dopo l'altro Di Il pezzo Che contiene il creatore E il pezzo Che contiene la seconda persona E Li unisce Ora Questo Conterrà Anch'esso I pezzettini Qual è il lato positivo? Che Uno Il file è distribuito Su più persone A più persone In più computer In più parti del mondo Inoltre Avendo Chiedendo il pezzo A più persone Viene distribuito Anche La velocità Cioè La banda Viene Viene ridotta Per chi lo invia L'originale Dovrà inviare Meno dati Poiché Viene richiesto Un pezzettino Soltanto E un altro pezzettino Viene richiesto Da un'altra persona Quindi Essendo che L'upload Nel mondo È la parte Diciamo Più lenta Quando volete Caricare un video Il video Si carica Molto lentamente E quando volete Scaricarlo Si scarica Molto velocemente Se Questo file Viene distribuito Ad esempio A 50.000 persone Io ho possibilità Di chiedere Un pezzo di file A 50.000 persone diverse E Quindi Mi si scarica Molto velocemente Al massimo Della mia velocità E lo ricompongo Super velocemente Questo file Ora è distribuito Ovvero Più persone Ce l'hanno E hanno la possibilità Di aiutare Altre persone A ricomporlo Se viene bloccato Questo video Su youtube Io posso continuare A vederlo Tramite l'ipfs Perché Può essere bloccato Sì Tramite Google Ma Google Non può bloccare Una rete Che non è sua Quindi In questo caso Se io L'ho scaricato Ce l'ho sul mio computer Posso rivederlo Tutte le volte che voglio Posso vederlo Anche se È stato bloccato Nel mio stato Ed inoltre Posso vederlo Anche se non sono in linea Se io Spengo il computer Mi staccano la rete internet Io posso ancora Accedere a questo file E guardarlo Riunisco i pezzettini Che sono Nel mio computer Adesso non si attaccano più Oddio Vabbè È un file corrotto Ok L'ho riunito Riunisco questi pezzettini E posso guardarlo Quindi È un web Incensurabile È un web Sicuro Ed è Un web Che Dà la La potenza Agli utenti Non stai più sotto il predominio Di qualcuno Ma Permette di essere Completamente liberi E come web Dovrebbe essere Inoltre È molto veloce Poiché viene distribuito Il file A tantissimi Computer Contemporaneamente Scaricabile È fantastico Ok Adesso vi spiego Come usarlo però Allora Praticamente Facciamo partire la registrazione Ok